Ciao, il mio nome è Rossella, sono una maestra di connessioni angeliche e da 15 anni mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte, ma anche come connessione diretta ed insegno alle persone come connettersi con gli angeli, in particolar modo con gli angeli della coscienza micaelica e con l'arcangelo Michele. Quindi 15 anni di esperienza in questo settore della spiritualità e vorrei in questo video spiegare meglio cosa significa leggere il futuro e se è possibile fare questo. Ok, naturalmente parlo per esperienza personale e per quello che mi è stato trasmesso come insegnamento direttamente dall'arcangelo Michele. Vorrei fare una piccola parentesi. Fin da bambina ho sempre avuto i sogni premonitori, ossia facevo dei sogni legati ad esempio alle lezioni scolastiche. Io sognavo le interrogazioni il giorno prima e sapevo esattamente come si sarebbe svolta la mia interrogazione, il voto che mi avrebbero dato, le domande che mi avrebbero fatto, tutto nei minimi dettagli e il giorno dopo quando andavo a scuola effettivamente le cose andavano esattamente come le sognavo. Questo mi accadeva intorno all'età di 15, 16, 18 anni. Poi accade un evento un pochino traumatico nella mia vita in quanto sognai un incidente in cui era coinvolto un mio caro e praticamente il giorno dopo lui effettivamente ebbe quest'incidente. La cosa molto particolare è che nel sogno io salvavo la vita a questa persona. Infatti le mie preghiere hanno salvato la vita a questa persona in quanto le dinamiche dell'incidente si sono svolte esattamente come io le avevo sognate, però la preghiera ha fatto sì che questa persona uscisse illesa dall'incidente. Quindi perché vi parlo di questo? Vi spiego. Il futuro è prevedibile quando l'energia del momento è già pronta per la manifestazione di un certo evento. Quando si tratta di un evento positivo siamo tutti felici, ma avere una visione, sognare o ricevere un messaggio che riguarda un futuro imminente che potrebbe in qualche modo sconvolgerci in quanto ci potrebbe spaventare, ci potrebbe creare preoccupazione. Questi messaggi in realtà non vengono inviati per spaventarci, ci vengono inviati per pregare, per chiedere aiuto al cielo. Poi voi potete pregare chi sentite nel cuore. Io sento nel mio cuore l'Arcangelo Michele, prego anche il Maestro Gesù Maria e Maria Maddalena e chiedo aiuto al regno spirituale per la protezione delle persone coinvolte eventualmente in dinamiche più o meno che potrebbero spaventarmi se dovessi avere questo tipo di sogni o di premonizioni. Quindi ripeto, è possibile prevedere il futuro, è possibile in quanto arrivano proprio dei messaggi, ci sono persone più o meno capaci di accedere al campo di informazioni. Però questi messaggi arrivano in maniera spontanea, cioè non sono cose che noi a qualche livello imponiamo noi all'universo di mostrarci il futuro. E' il futuro che si manifesta a noi in quanto l'energia del presente è già predisposta per la manifestazione di un certo evento, in quanto noi siamo creatori della nostra realtà. Noi possiamo sempre condizionare in maniera positiva il nostro futuro cambiando le dinamiche del presente. Se ad esempio abbiamo, cioè in base all'energia del presente, abbiamo un futuro incerto e un po' preoccupante, noi possiamo cambiare l'energia del presente per cambiare la manifestazione futura. E io questo vorrei spiegarlo alle persone che si rivolgono a chi legge le carte, anche io leggo le carte, ma il modo in cui lo faccio non vado a leggere il futuro, vado a leggere l'energia presente, cioè in base al tuo presente si può manifestare questo evento, ok? Se questo evento ti piace, benedetto sia, siamo tutti d'accordo. Quando si tratta di informazioni felici, siamo ben felici di ringraziare come che appunto sta per accadere qualcosa di meraviglioso. Se è un qualcosa che riguarda per esempio la salute, a portare alcuni cambiamenti alla dieta, a cercare di disintossicarsi a qualche livello, di cambiare abitudini, eliminare abitudini sbagliate, oppure di tagliare le corde con persone, luoghi, ambienti, situazioni, eventi, lavori. Cioè gli angeli, io in particolar modo lavoro con l'arcangelo Michele, ci avvisano di appunto di allontanarci da situazioni incerte o negative che possono danneggiare il nostro futuro. Se noi non apportiamo i cambiamenti necessari, è naturale che poi stiamo male, viviamo male, ci ammaliamo e così via, ok? Quindi è possibile predire il futuro, questo sì, nel senso che noi possiamo veramente, in base all'energia del presente, capire in che direzione stiamo andando. Quindi una lettura delle carte o una connessione diretta con gli angeli o con l'arcangelo Michele è utile per prendere le decisioni giuste, per far sì che possiamo appunto cambiare gli eventi, perché noi siamo creatori della nostra realtà. Noi lo facciamo tutti i giorni in maniera consapevole, per coloro che veramente sono consapevoli del fatto che il futuro dipende da noi, il futuro dipende dalle nostre azioni, dai nostri pensieri, dalle nostre emozioni, ok? Da come nutriamo il nostro organismo, se facciamo attività fisica, se facciamo azione nella direzione dei nostri sogni. Ecco che noi possiamo indirizzare l'energia nella direzione dei nostri sogni obiettivi e chiedere anche la protezione per i nostri progetti e i nostri obiettivi. C'è tanto da dire su questo, però quando l'energia è focalizzata nella direzione giusta, noi possiamo manifestare quello che vogliamo consapevolmente. Ma è anche vero che il 90% delle persone crea inconsapevolmente e molte persone che si rivolgono a chiedere letture continue sulle carte o letture angeliche e così via, pretendono di manifestare cose positive magari facendo azioni sbagliate, pensieri sbagliati, forzando gli eventi, mettendo delle energie egoiche e non si rendono conto che in questo modo anche attraverso letture assidue voglio sapere la risposta, voglio sapere se lui tornerà da me, ma lui è sicuro che si sposa. Cioè queste cose sono ego, sono domande egoiche, sono forzature. L'universo si muove in maniera naturale, in maniera spontanea, in maniera armonica. Quindi se noi vogliamo, ripeto, manifestare eventi futuri positivi, dobbiamo apportare i cambiamenti necessari per far sì che questo avvenga. E una lettura delle carte, una lettura angelica, una connessione diretta, canalizzazione, chiamatela come volete, può essere utile per capire il presente dove ci sta portando nella direzione futura, ma il futuro è sempre variabile. Solo in alcuni casi il futuro è determinato, cioè è chiaro e preciso. Questo quando arrivano spontaneamente, ripeto, spontaneamente, non sotto domanda o richiesta, arriva spontaneamente la visione, il messaggio attraverso i sogni o un messaggio canalizzato che ci dice guarda, si sta manifestando questo, la tua energia è pronta per questo o l'energia di qualcun altro. Perché alle volte può riguardare anche altre persone, ma come ho detto prima, se si tratta di eventi positivi, benissimo. Se si tratta di eventi negativi, preghiera, perché la preghiera è in grado di cambiare e trasformare la nostra realtà. La preghiera può essere la semplice preghiera tradizionale o diciamo anche le varie tecniche di manifestazione sono assolutamente utili per manifestare, quando riguarda la nostra persona, eventi positivi. Quando riguarda le altre persone, si prega col cuore, si chiede la protezione. Io personalmente lavoro a stretto contatto con l'Arcangelo Michele, chiedo il suo intervento diretto, la sua diretta protezione e vi posso garantire che alle volte queste preghiere possono veramente aiutare in tantissimi livelli le altre persone e in alcuni casi anche salvare la vita. Io spero di essere stata esaustiva, spero di non aver smontato alcune delle vostre credenze, però è giusto portare consapevolezza, verità ed integrità per il lavoro che faccio e per i messaggi che porto. Vi auguro una piacevole giornata e a presto, ciao!